Questo microfono ci ricorda che è il momento di un grande monologhista, uno che ha bisogno di un po' di atmosfera, lui è il nostro grande Giorgio Melazzi! Nel vivere del nostro buio quotidiano, ogni tanto incontri un raggio di luce. Spesso è una moto che ti sta investendo, c'è del fanculo nell'aria, la vita è un puzzle da comporre giorno per giorno, tassello dopo tassello, ti è pescando in quel metro di merda che la rende difficile. Ma non è vero che la vita passa senza un perché, anche quest'anno continua l'impegno di Golia Bianca nel difendere la natura. Ciucci una menta e salvi un orso polare, sentirsi utili e buoni, basta poco per dare un senso alla vita. È quando leghi un francobullo che non sei sicuro di salvare uno statale. E ti dicono grazie, 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 grazie. Perché forse non ci hai pensato, ma sono proprio i tuoi acquisti, anche quelli più semplici, quelli che fanno girare l'economia. È quando arrivi alla cassa, che ti si ferma l'economia e cominciano a girarti i coglioni. Dura la vita, ci hai provato e lo sai, come alzi la testa piavono cazzi e martelli. È un Vietnam a ogni angolo, una fogna in testa e un'altra nel cuore, tutti contro tutti, basta. Non è una vita, è un inferno per Doberman, ma un giorno dopo l'altro ti sei fatto la scorza, sei diventato un turo, un inferno per Doberman. Fa un culo, sempre meglio di un paradiso per Cocker. E guardi su. Piovono cazzi e martelli, dici, ma sempre ce lo è. Ti saluto, mamma, io esco. Torni e guardi giù. Siamo virgole di gazzetta. Siamo sputi nella corrente, mamma, è la vita. Quel tratto di piano inclinato, spesso in forte pendenza, l'ha stricato di sapone e di merda. Come faccio a dirti se torno? Sono poche le mamme tranquille. Poche. Forse nemmeno quelle quattro in Tennessee, coi figli sistemati. Quei quattro pirla stipendio fisso del Tennessee che lanciano i tappi in veranda. Aspettando che sia pronto il whisky. Cosa dici, Jack? Ce la facciamo una partita a tappi. Come no, volentieri, una secca, vai. E pare una stronzata, dice la mamma di quel Jack. Ma alla fine di ogni partita mi torno a casa invecchiato di cinque anni. Chi siamo, mamma? Dove andiamo? Perché a trent'anni siamo quelli di Braveheart e a quaranta siamo quelli del guscio Meliconi? Per un uovo sodo ci vogliono sei minuti e per uno alla coc ne bastano tre, bambino mio, altro non so della vita. C'è del fanculo nell'aria, mamma. Questo lo so. Respira profondo e vivi. Se vuoi sognare, sogna. Voglio che sogni. Voglio che pensi al futuro. Perché il futuro è un campo di girassoli. Dove troverai il tuo migliore amico? In camporella con la tua ragazza. Certo, una vita senza problemi è impensabile. E c'è quello dove non riesci a aprire il tonno perché ti si è rotta la chiavetta. E c'è quello che sei su un aereo che sta precipitando. Ma il segreto è uno solo, sempre. Pensare sempre in positivo. Per esempio, che nell'impatto al suolo ti si apra il tonno. Giorgio Merazzi Grazie Grazie, grazie Ritorniamo alla musica? Sì, torniamo alla musica.